Si definisce uno scrittore che fa domande ma che non ha risposte. Di certo Victor de Arbol è uno scrittore che si interroga molto e ci interroga come lettori spingendoci al limite delle sue e delle nostre emozioni. Sarà per questo che alla presentazione del suo ultimo libro Nessuno su questa terra alla Fondazione Pescara Abruzzo il pubblico è stato letteralmente avviluppato dalla profondità di pensiero e insieme dalla leggerezza verbale di de Arbol considerato uno dei più grandi autori spagnoli di noir con fine di genere che peraltro mal si addice a lui e probabilmente a tutti gli scrittori. De Arbol dopo vent'anni in polizia dove è entrato convinto di poter trovare giustizia solo nella legge ha lasciato la professione per dedicarsi al suo sogno scrivere ma il peso specifico di quei vent'anni c'è ancora c'è tutto con i suoi trionfi e le sue delusioni con i tranelli della memoria e il vuoto tra i ricordi. La legge è oggettiva ha detto a Pescara la giustizia è un sentimento il codice non capisce le emozioni siamo tutti figli delle nostre ferite anche gli assassini se non esistesse la legge saremmo persone giuste? Quando tu arrivi a comprendere le circostanze l'origine, la famiglia di questo assassino, di questo sicario alla fine è una persona e ha la sua fragilità, la sua paura, il suo desiderio e questa cosa è terribile perché lascia di essere un mostro per convertirsi in uno come noi. Per Paolo Marchetti a Radio 8 lo conoscono bene ma è anche il traduttore non solo di Victor Derbol ma comunque traduce dallo spagnolo e anche egregiamente mi risulta è giusto, è bravo? È una buona traduzione, non è mala. Inverto la domanda, com'è tradurre Derbol? Lui scrive in una lingua chiara ma è molto invece difficile riportare, rappresentare, restituire le emozioni perché secondo me Victor è uno che scrive con una enorme partecipazione emotiva quindi la lingua riprodurla non è difficile, le emozioni molto di più e credo che per cercare di farlo bene bisogna amare profondamente questo libro, la sua scrittura e io in questo caso la amo profondamente. Mi ha ridato il gusto di leggere e di tradurre. Io penso che la letteratura serve a una cosa più importante che l'entretenimento che è l'equilibrare la realtà con la ficzione. Penso che noi scriviamo e leggiamo per cercare una sorta di felicità o una sorta di capacità di vincere il nostro fatto, destino diciamo che diceva Shakespeare. Allora per me scrivere il giallo, il genere non è importante. La cosa più importante è la storia e a partire le emozioni. L'emozione per me è più importante che la anécdota. Grazie. 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 Grazie.